Fare la spesa ti pesa? Vorresti farla in modo più veloce e conveniente? Scopri drugstore.it Collegati al sito e scegli tra più di 5.000 prodotti. Entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua. Sconti oltre il 50% sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia, della persona, della casa e degli animali. E per te 5 euro di sconto con il codice offerta TV. Il programma è offerto da Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Altro Studio Sport. Ieri sera anche le nostre due italiane impegnate nelle due semifinali di Europa League purtroppo sono uscite, grande delusione per l'Italia, ma la commenteremo insieme ai nostri ospiti. Buonasera ad Angelo Fogagnolo. Buonasera a tutti voi. Buonasera a Luca Di Benedetto. Grazie, buonasera a tutti. E buonasera anche a Marco Basoni. Buonasera ai nostri amici. Allora, Angelo, te l'aspettavi l'uscita delle nostre italiane in Europa League ieri sera? Sicuramente il Napoli è una sorpresa. La Fiorentina era già fuori con il 3-0, anche era impossibile la cosa. Il Napoli, che secondo me è un po' sottovalutato a questa squadra, che invece è una sorpresa totale. E poi andare a giocare là, non giocando una partita come sa da Napoli, come fa da Napoli. Anche se il portiere loro ha fatto due o tre parate, Guain ha sbagliato dei gol incredibili. Però, secondo me, il discorso dovevano chiuderlo a Napoli. A parte quel gol in fuorigioco dato ingiustamente tutto, però il Napoli doveva dimostrare che doveva fare più di un gol a Napoli. E questa è la conseguenza. Certo. Luca, il Sevilla era troppo forte per la Fiorentina, forse? Beh, guarda, all'andata non mi aveva impressionato. Nel primo tempo la Fiorentina ha avuto diverse occasioni da gol, una clamorosa con Matti Fernandez, che ha sprecato da due metri. E poi dopo tutti gli episodi favorevoli il Sevilla è riuscito a concretizzare l'occasione da gol e le ha sfruttate. Non c'era questo predominio assoluto netto. È chiaro che poi nelle due partite se fai cinque gol e ne subisci cinque, scusa, non ne fai neanche uno, c'è poco da dire, è troppo forte sì. Però per quello che si era visto in campo, soprattutto nella prima partita dove poi si è giocata l'eliminazione della Fiorentina, non sembrava che impressionasse più di tanto questo Sevilla. Certo. Marco, il Napoli invece è stata veramente una grande delusione perché poteva essere veramente una conferma per Benitez, questa Europa League, e invece è stata una delusione più totale anche per i tifosi. Sì, io ho seguito il Napoli, è stata una grandissima delusione, io ero praticamente sicuro che gliel'avesse fatta nella partita di ritorno che poteva fare una grande prestazione, però gli ucraini si sono dimostrati primo molto, molto, molto competitivi. Io non credevo che erano così preparati. Poi le condizioni climatiche è stato un altro. L'acqua che doveva venire a Milano è venuta a Chive invece che temporale l'acqua di rotto è venuta là e poi Guain ha avuto la palla per passare sull'1-0 e l'ha sbagliato. Il portiere gliel'ha parata comunque da quella posizione lì, Guain 9 volte su 10 fa gol. Dopo quella lì, l'altra occasione con quella grande parata sul colpo di testa e poi lì il Napoli è andato un po', ha incominciato un po' ad andare in affanno e la partita è stata compromessa. Angelo, quindi adesso l'unica chance del Napoli per raggiungere la Champions è il campionato. Sì, sarà molto difficile, anche se ha un po' favorevoli scontri diretti tra Lazio e Roma. Ma questo è il fallimento di Benitez, questa è la verità. Perché fuori dalla Coppa di Champions League all'inizio, fuori da... Diciamo che dalla Champions è uscito anche in un modo un po'... Cioè nessuno se lo sarebbe aspettato avendo fatto tutti quei punti... E questo è anche vero, però insomma è uscito, questo è un dato di fatto. Poi bisogna dire sì, fortuna no, ma però è un dato di fatto. Questo è un fallimento secondo me da Benitez, secondo me sarà quello che deciderà di cambiare l'allenatore. Sicuramente dei laurenti secondo me, devi cambiare il registro. Questo è un fallimento anche del gioco di Benitez e della sua testardaggine a giocare uno schema sempre nella stessa maniera. Certo, Luca, fino a settimana scorsa si parlava di un possibile rinnovo per Benitez, adesso le carte in tavola cambiano nuovamente. No, questa storia del possibile rinnovo mi sapeva tanto di giochetto particolare, perché dell'Aurenti si ha proposto 4-5 anni di contratto che non si è mai visto per un allenatore, non si capiva bene dove volesse andare a parare. Lui nicchiava, stava un po' sulle sue, dicendo che voleva questo centro sportivo, qualche giocatore di un certo livello per far crescere la squadra, per puntare ad altri traguardi, naturalmente più ambiti. non lo so se veramente poi ci fosse stata la volontà di andare avanti nell'impegno da parte di Benitez e di De Laurentis. Quindi a me sapeva tanto di giochetto tra i due, insomma. Anche per te Marco. Emanuele, vi volevo dire che io che sono sempre stato un estimatore di Rafa Benitez, questa volta non l'ho capito, anche nella partita di ieri sera per esempio io Gabbiadini non l'avrei mal tolto, qui ci sono due tecnici che forse possono, però avrei variato l'attacco in un altro modo, ad esempio per me ieri che era completamente negativo è stato Cagliegon, anche Higuain non l'ha mai presa, però siccome si parte dal principio che uno come Higuain non va mai tolto, ma devi togliere l'altro, Cagliegon e Mertens doveva entrare prima, Mertens è quello che ha dato il giro alla partita, anzi forse dribblava fin troppo, alla fine non ne poteva più, è quello che ha tentato poi in tutti i modi di fare questo benedetto gol. Perciò lì mi ha un po' deluso i cambi, proprio cosa c'entra cambiare poi Enrique per passare a tre, sì ma quelli sono tutti i dettagli, tu dovevi fare il gol, dovevi fare il gol e basta, non so, allevare Gabbiadini è una A, ma viene fuori un tiro dal limite con i tiri che ha lui, l'unico modo per battere questo Bocco, che non è Bocco Ranma, questo cavolo di Bocco qui era di tirare anche dal limite, di tentarli tutte e non a tirar fuori Gabbiadini, almeno io la vedo così, e su questo mi ha lasciato un po'. Anche perché ha preso appunto un giocatore con quelle caratteristiche, Angelo, che magari... Anche perché Gabbiadini, è la fortuna averlo in questo momento, è decisivo sempre, quando è entrato è sempre stato decisivo su tutto, ma poi perché questo ha voluto sempre, cambia uno, cambia l'altro, ma qualche volta fallo partire dall'inizio Gabbiadini e vediamo cosa fa, anche perché lì ci vuole la forza fisica, perché sul piano fisico ci hanno distrutto. Ieri è partito dall'inizio lui, ma poi l'ha tolto. Certo, ma sto dicendo, fallo partire ma ha di fiducia. Invece Caglione le ha fatte tutte, ne ha fatte tutte 48, quante ne ha fatte? Sì, sì, sì. Questo non l'ho provato. E poi è la dimostrazione che quando giochi in Europa con quello schema è molto più prevedibile e ti contrastano perché non hai due centrali, uno di gioco avanzato e uno di pressione in mezzo al campo. Certo. E questo è un fallimento per tutto quel bene che dicevano di Benitez e tutto. Cioè questo, secondo me, ha ragione Luca, secondo me è tutto un pagliativo per dire me ne vado, perché tutto il discorso che è venuto fuori i 4 milioni prima, però tocca a lui dire... Beh, però magari perdere una possibile finale di Europa League comunque è brutto e anche triste, se è tutto per questa cosa qui, perché comunque sarebbe stato un trofeo importante per una squadra che veramente non lo vince da tantissimi anni e quindi... Un'opportunità così non gli capitava perché non ha trovato Siviglia, se no era un problema che avesse... cioè almeno uno delle due doveva essere lui... Guarda, il corso di poi io volevo soltanto aggiungere una cosa, forse il sorteggio che molti avevano visto come favorevole a Napoli, se Napoli avesse preso Siviglia sarebbe stato forse meglio. Ma perché dice così? Perché Napoli contro le squadre che si chiudono e poi ripartono, ma fa fatica se non sblocca la situazione. Si è visto anche nel campo italiano, contro le squadre di medio-bassa classifica, il Napoli o perdevo o pareggiava. Ma faceva una fatica enorme. Se soprattutto non riusciva... Magari il Napoli buttava fuori il Siviglia e la Fiorentina e il Dini, però purtroppo... Ma questo è sempre ipotetico, però voglio dire che sicuramente, diciamo, al momento del sorteggio tutti vedevano come favorevole la situazione a Napoli, poi dopo sul campo si è visto che contro queste squadre, che si chiudono bene e poi ripartono, ma soprattutto giocano l'uno contro l'uno, non lasciavano spazio, cioè marcavano, poi correvano, raddoppiavano, ci hanno messo una foca agonistica che era a tratti impressionante, soprattutto in alcuni elementi. Qualche giocatore di qualità, come Cono Pianca, perché uno che la palla non gliela portava neanche a morire, davanti ai giocatori di peso... Dieci, due forti, avanti. Sì, fisicamente. Quindi ha trovato delle difficoltà. È chiaro che Napoli queste partite le deve risolvere, cioè 1-0, 2-0 è chiusa. Fine. È chiusa sempre che dopo ti tiri indietro un attimo e fai la linea 4-4, perché Benitez non lo faceva, ecco perché poi andava magari a subire qualcosa, perché continuava a giocare col suo schema, col suo metodo del 4-2-3-1. Certo, voglio sentire anche la tua opinione, Marco, invece sulla Fiorentina e la partita contro il Sivilla. Cioè la Fiorentina non aveva proprio speranze, è vero che c'era il risultato secco dell'andata, però... Io non l'ho vista, però dal commedio poi ho visto il servizio, la partita non l'ho vista perché lo seguivo il Napoli, lo seguivo la Fiorentina. Però mi sembra che questi erano di un'altra categoria. Poi ti van male le serate e inizi che devi rimontare tre gol e incominci a prenderne uno, vuol dire che è proprio finita. Poi vai anche insieme con la motivazione, poi sbagli tutto nel calcio. Secondo me era il Sivilla, in ogni caso, secondo me più forte della Fiorentina. E sarebbe stata una bella partita con i Napoli, una bella finale con i Napoli. Io ci sono rimasto veramente male per i Napoli, mi spiace proprio tanto perché era un'altra italiana in finale. Prima delle gare di andata avremmo voluto tutti avere le due italiane in finale, perché sarebbe stata una cosa bellissima. Dopo il 3-0 invece dell'andata del Sivilla... Almeno una che poi è forte come squadra in generale, almeno quella invece... E invece purtroppo non siamo riusciti a portare a casa anche questo risultato. Va in finale il Sivilla contro il Dnipro, una seconda spagnola insieme alla Barcellona, perché è il Barcellona in Champions League, però resta un'italiana comunque, che è riuscita ad arrivare in finale. Di Champions a Berlino, la Juventus, è un grande risultato questo, Angelo. Sicuramente sì, sicuramente la Juve ha fatto un grandissimo risultato, ha giocato da Juve nelle ripartenze, nell'aspettare il Real. Il Real ha fatto benissimo i primi 25-30 minuti, poteva mettere in difficoltà la Juve perché Ronaldo e tutti hanno sbagliato dei goling importanti, però la Juve nel secondo tempo ha dimostrato di meritare il passaggio del turno e secondo me, chapeau, bravi. bisogna dirlo, quando c'è da dire bravi, bisogna dire bravi. Certo. Luca, la Juve dov'è che ha vinto la doppia sfida? A Torino o a Madrid? Beh, sia a Torino che a Madrid, perché ha fatto due partite più o meno nello stesso modo, cioè con la stessa intensità, credendoci dall'inizio, seppur aveva qualche giocatore che non ha giocato al massimo, perché per esempio Pirlo è la brutta copia del giocatore che conosciamo tutti. però onestamente io non pensavo che arrivasse in finale, mi devo ricredere perché sul campo ha dimostrato di meritarla, anche se, torno a dire, tutti gli episodi che possono essere positivi o negativi, nel qual caso sono stati positivi per la Juve, perché il calcio vive gli episodi, lo sappiamo tutti, non è una banalità, un luogo comune, ma è così. Se James Rosiglio si è messo dentro la traversa, se l'abito avesse concesso il rigore del fallo di Evra, su Cicero di Tommel, sai, delle questioni che magari a questo punto la Juve sarebbe stata fuori, non ci sarebbe stato neanche qui nulla da dire. Certo. E' nata avanti la Juve, complimenti alla Juventus. Certo, Marco, una finale è raggiunta, adesso andrà a incontrare il Barcellona, sicuramente la squadra più in forma di questa Champions, però in una partita secca. Sì, adesso la frase che viene è quella di Allegri, adesso in finale può capitare di tutto, e chi non lo dice, è evidente, però sicuramente il Barcellona è un'altra cosa rispetto a questo Madrid, a dei giocatori avanti che veramente sono un'altra cosa, perché se tu adesso guardi e fai una tra il terzetto del Barcellona e il terzetto del Real di questo momento, senza un Modric dietro che gli dà i palloni e gli dà le imbucate, c'è un abisso. Per cui adesso incominciamo forse a vedere un'altra grande finale e con la Juventus di pieno merito, tra andate e ritorno gliel'ha fatta, anche se gli è andato proprio tutto bene. Io la leggo così, perché è vero che poteva vincere anche la Juventus, però poteva vincere anche due a uno tranquillamente e andare ai supplementari in Madrid e poi portarli ai supplementari. Anche la Juve si è, diciamo, ha sbagliato diversi gol, quello di Marchisio è stato pazzesco, però non dimentichiamo che ci poteva stare il secondo rigore, come ha detto Luca, che era ancora più clamoroso del primo. Sono stati episodi sia da una parte che dall'altra. Che dall'altra, perciò come poteva vincere una, poteva vincere l'altra e andare ai supplementari. Poi era tutto una cosa da vedere, io l'ho letta un po' così questa gara. Certo, noi ci abbiamo fermato per una breve pausa, poi torniamo subito dopo che parliamo ancora di Juve e poi ci buttiamo sulla prossima giornata del campionato di Serie A che parte domani. Mi raccomando, restate con noi.